ragazzi nuovo video Marco Giordano cosa ne pensi della politica italiana potresti fare un video su questo argomento allora l'ho già registrato questo video quindi sarà la seconda parte perché come sentite c'è Dino a casa e quindi grazie Marco Giordano per questa domanda per questo video anche se la politica a me non piace non mi piace che ci governa non mi piace che ci mettono uno contro l'altro in politica cioè in famiglia le dichiamo tipo mio marito con mio suocero perché uno la pensa in un modo l'altro la pensa in un altro è bruttissimo mettersi e dividersi è bruttissimo non andare d'accordo è bruttissimo pensarla in due modi diversi ci può stare ma odiarsi e farsi la guerra in famiglia tra parenti o amici è bruttissimo perché non si è votato non si è votato si dice la stessa persona di mio suocero io non ho votato la stessa persona di mio marito o lui non ha votato la stessa persona che pensavo avesse votato eccetera eccetera è bruttissimo farsi la guerra per queste cose cioè loro lo fanno apposta i politici per metterci per farci la guerra metterci uno contro l'altro lo fanno apposta a litigare loro così litighiamo noi e nessuno risolve i problemi del mondo purtroppo nessuno risolve niente perché tanto uno si mette d'accordo e litiga l'altro si mette anche d'accordo e litiga e nessuno fa niente nessuno mette a posto questo mondo nessuno risolve i problemi di questo mondo tutti uno che litiga l'altro litiga l'altro litiga l'altro litiga e tutti che litighiamo e nessuno che ridolve niente nessuno che migliora questo mondo nessuno che fa niente ecco non va assolutamente bene questa cosa cioè nel senso è assolutamente una cosa negativissima cioè chi se ne frega che tu hai votato che tu hai votato lui ha votato lei ha votato chi? lui l'altro non ha votato a me non mi interessa cosa votate voi e a voi sicuramente non interessa chi ho votato io se vado a votare eccetera eccetera non dobbiamo farci la guerra a me non piace la politica di oggi a me non piace chi ci governa a me non piace assolutamente parlare di politica non mi piace ragazzi ce la posti? scusate mille rumori oggi mille tagli d'Europa non so se riuscirò a unire questo video con l'altro video hanno già aperto i vicini alla postina comunque grazie per la richiesta scusate il rumore non so voi se vi piace la politica se votate se siete sindacalisti eccetera ma a me non piace parlare di politica a me i politici che ci sono che ci governano tra regolette non mi piacciono non mi sono mai piaciuti da quando hanno tolto la lira stiamo andando di male in peggio e non solo per quanto riguarda i soldi quindi il fattore economico dico sempre quello che penso non quello che volete voi ma quello che penso io la mia esperienza personale tra regolette io non mi metterei mai in politica perché non so comandare nessuno non so organizzare non so decidere non so pensare ai problemi diciamo del mondo devo già guardarmi i miei problemi ecco quindi figuriamoci se guardo i problemi del mondo però non mi piace assolutamente come stiamo andando tutti che si fanno la guerra la guerra in Afghanistan tutti i problemi del mondo l'amazzonia che prende fuoco gli incendi un sacco di roba brutta in questo mondo il bullismo la pedofilia tutte cose che secondo me anche i politici potrebbero risolvere potrebbero eliminare potrebbero debellare potrebbero cancellare ditelo come volete invece nessuno fa niente sono tutti presi solo a fare soldi ad avere le auto blu ad avere le scorte le guardie di finanza le guardie del corpo i bodyguard tutti quelli con la gente lì chi se ne frega per me sarò un po' fascista ma non voglio insulti non voglio critiche per me dovrebbe essercene uno che comanda o al massimo due invece in quel parlamento a Roma ce ne sono 60 persone che oltretutto sono tutti pensionati perché hanno tutti più di 60 anni e quindi c'è perché tutti anziani mettetene uno giovane che abbia voglia di migliorare il mondo che comandi bene che guida bene il popolo e che dia degli ordini giusti degli ordini che abbia voglia di ascoltare il popolo e non ascoltare il portafoglio che si riempie di soldi alla faccia nostra che siano sempre poveri io non sono fascista io non sono nazista non sono nazista non sono niente però mi fanno anche diventare ogni tanto c'è nel senso certi comportamenti quando guardi il telegiornale che ti viene da sputarli in un occhio a questi politici schifosi però non voglio criticare perché poi vengo criticata e non voglio che con questo video escano fuori le male lingue o tutta quella gente che critica che offende che dice tu sei fascista tu sei nazista tu fai schifo non parlare degli altri perché tu vai a cagare eccetera eccetera no non voglio certi commenti negativi perché vi cancello e basta ognuno la pensa a modo proprio io dico quello che penso voi dite quello che pensate e andiamo d'accordo senza ammazzarci senza odiarci senza farci la guerra possiamo confrontarci io la penso in un modo tu la pensi diversamente da me perché tu la pensi così perché io la penso così e basta punto se no non parliamo proprio di politica e ognuno fa quello che vuole e ognuno la pensa come vuole e va bene così basta non voglio problemi non voglio critiche non voglio offese da nessuno e non voglio insulti a gratis ok in nessun video soprattutto sotto questo video non voglio insulti e offese gratuite poi basta direi che finisco qui il video anche perché ho fatto due parti di questo video e vi saluto grazie Claudio Marco Giordano non mi ricordo il tuo nome comunque grazie per la richiesta se avete altre richieste fatemele adesso se non oggi domani registrerò un video di nuovo di ripetizione di parole di fianco alla videocamera che non mi vedete ma va bene lo stesso che mi ha richiesto un warrior and prince che vuole sapere vedere che sorrido ma non ci vedete e quindi vuole sapere vedermi lei le apre eccetera ma non c'è tre papagatti sono sposata quindi anche lì non cercare di ti adoro ti amo ti voglio bene di qua e di là troppi complimenti non li voglio sono sposata non voglio nient'altro quindi faccio i video perché mi rilassano ma non ho secondi fini ok se avete secondi fini andate dall'altra parte l'ho già detto e lo ripeto a presto ragazzi ciao ciao ciao